Si può scoprire storie brutte sulla scienza, benvenuto al podcast brutto di Barbascura. Benvenuti signori e signori su questo podcast brutto sulla scienza e gli scienziati. Il mio nome è dottor Barbascura, ex! Sono un chimico, condottorato in chimica verde e produzione di materiali da fonti rinnovabili e mi hanno appioppato il titolo di divulgatore scientifico perché mi piace raccontare la scienza. Male. Personalità 12 attivata. Autodistruzione tra... 3... 2...